Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Come potete vedere questo libro l'avete già visto perché già Eva ve l'ha presentato, però oggi voglio anche io creare una faccia molto spiritosa. Vedete, come potete vedere ci sono tantissimi oggetti da decorare. Naturalmente adesso devo scegliere quale decorare io. Ci sono anche tantissime decorazioni per il viso, nasi, bocche, cappelli, occhi. Insomma, questo libro davvero dà libero sfogo alla fantasia. E ora naturalmente vi mostrerò quello che vorrò andare a decorare io. Ecco qui abbiamo una faccia. Ecco qui abbiamo un bellissimo tornino rosa con delle impronte. Credo proprio che questo sarà l'oggetto prediletto, per cui andiamo subito a vedere questi mille stickers da poter attaccare. Ecco, come prima cosa naturalmente non può mancare un bellissimo fiocchetto. Ecco qui. Poi naturalmente alla nostra figura servono degli occhi o anche dei bellissimi occhiali a forma di cuore. Ecco qui. Poi andiamo alla ricerca di un nasino o anche delle sopracciglia. Ecco qui. Naturalmente devo ancora decidere se questa figura sia una ragazza o magari può essere anche un signore che per gioco si sia travestito, diciamo, da graziosa ragazza con questo fiocchetto rosa. per cui andiamo a prendere anche naturalmente non può mancare un nasino. Vediamo un po'. Prima una bella bocca sorridente. Eccola qua. E poi anche uno spiritoso naso, come vi dicevo prima. Questo qui, bello rotondo, credo proprio sia perfetto per la nostra figura. Ecco qui. Poi naturalmente come potete vedere ci sono tantissime altre decorazioni. Noi gli mettiamo anche i baffi così da non lasciare nessun dubbio. Insomma, sì, credo proprio che sia un signore che si è travestito simpaticamente da graziosissima ragazza. Ecco qui, come potete vedere questo libro è veramente carinissimo e con tutti questi stickers potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia e creare tantissime nuove facce buffe e divertenti. Naturalmente poi scrivetemi nei commenti quale vi è piaciuta di più e se anche voi avete avuto l'opportunità di prendere questo bellissimo libro e quale naturalmente facce avete creato. Vedete, come potete vedere c'è anche la bocca forma di arancia molto simpatica, tantissimi occhioni, tra cui occhioni anche veri. Insomma, davvero questo libro è veramente, veramente fantastico. Naturalmente spero tantissimissimo che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto naturalmente regalateci un mi piace. Non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video e naturalmente non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi. E naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta su Twitter Selfie Ispirazione. Ciao!